Musica Gianluca Persico del sindacato UGL, una nuova protesta dei lavoratori di Calabria Verde che vediamo incatenati qui alle nostre spalle, una situazione che non si sblocca, ricordiamo, dall'Afor sono passati a Calabria Verde nel mese di aprile. Esatto, sì, dall'1 aprile sono passati ad azienda Calabria Verde istituita con legge regionale 25 del 2013, il progetto era un progetto ambizioso perché praticamente doveva un attimino dare una chiave di volta a tutto il settore della forestazione calabrese, praticamente andando ad incidere nei settori fondamentali. Voglio ricordare che questo è un servizio pubblico essenziale, perché deriva dalla legge 365 del 2000 all'indomani della tragedia di Soverato, dove tutto il Consiglio regionale fece una disposizione, un ordine del giorno dove praticamente si prevedeva che questo tipo di tragedie non sarebbero mai accadute e bisognava dotarsi del servizio in maniera permanente in tutta la regione. Ora ci troviamo nell'assurda situazione perché c'è una legge dello Stato che prevede che praticamente questo servizio debba essere continuato e non interrotto in maniera perenne, praticamente, e in questo momento questo servizio praticamente non è garantito per il semplice motivo perché non c'è la copertura economica all'interno del bilancio regionale e questi lavoratori si stanno pagando a spizziche e morsi attraverso varie difficoltà, praticamente, che l'azienda è in difficoltà e non riesce a pagarle. Il sit-in che hanno fatto stamattina i lavoratori nasce dopo una serie di situazioni che abbiamo messo in campo a livello sindacale, le abbiamo tentate tutte per richiamare l'attenzione da parte dell'opinione pubblica e soprattutto per far capire alla giunta regionale e ai cittadini che la presi, perché questa non è solo una battaglia per difendere i padri di famiglia che si occupano di questo servizio, è una battaglia di civiltà. Noi siamo il servizio di sorveglianza idraulica che dal primo aprile è passato a Calabria Verde, full time, e si occupa di difesa del suolo e di discesso idrogeologico, monitoraggio idrografico, in sostanza. Cosa facciamo però? Altrimenti non si capisce. Noi siamo coloro che andiamo a segnalare tutti gli abusi e tutti i problemi che ci sono sulle aste fluviali, quindi facciamo prevenzione soprattutto. Quindi non solo segnaliamo i problemi di dissesto e che possono recare problemi tipo Sossoverato, le camping leggiare, anche Santa Maria recentemente qui a Catanzaro e tutti i torrenti calabresi che sono una bomba da un punto di vista ambientale, noi andiamo anche a segnalare gli scarichi fognari, gli scarichi abusivi fognari, industriali, oleari, quindi quando la regione ogni anno fa il censimento, mare pulito, eccetera, eccetera, non c'è bisogno perché c'è già un servizio che si occupa di questo e se lo utilizzano hanno i dati perché noi andiamo col GPS, quindi non solo segnaliamo gli scarichi, le discariche abusive di Ethernet, di gomme di automobili che sono altamente inquinanti, occupazioni d'alveo, insomma noi facciamo, e poi questo è un servizio, vorrei specificarlo, pubblico essenziale, che per legge non si può neanche interrompere e siamo da quattro mesi senza stipendio e senza copertura economica fino al 31 dicembre del 2014.